Ciao a tutti ragazzi, io sono Hornet e benvenuti in un nuovo video. Questa volta siamo al nuovo campo degli Yena Coops. Il campo è nuovo di zecca appena preso, infatti sarà molto molto fitto dal momento che nessuno ci ha mai giocato. Questa caratteristica permette di essere molto nascosti, infatti la difesa era veramente avvantaggiata e il gameplay in particolare spero che vi piaceranno parecchio. Quindi ragazzi, buona visione! Meno due qui. Copratura verso sinistra. Grazie. 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 Stanno facendo un risicamento sinistro. Grazie. Grazie. ne ho almeno tre di qua meno una sinistra e non riesco a dare una mani M'hanno sgamato a sinistra Beh che è rotto alla sinistra e che è scoperta Da in fondo, dietro Mi sono spostato verso la sinistra, sono a 10 metri della bandiera Tango 6 a sinistra Tango 6 a sinistra Sinistra libera, passa Tango 7 a sinistra Mi muovo per attirare un po' l'attenzione Vediamo se si muovono Un po' più Come avete visto il bosco è veramente fit muoversi, è veramente impossibile senza far rumore E quindi la difesa era veramente tanto avvantaggiata Ecco qui un altro gameplay sempre della difesa In questo momento sono esattamente in mezzo a due colonne di nemici E per qualche motivo, anche se non sembra Ero talmente mimetizzato bene Che neanche i due colpiti i malambi Sto quindi aspettando il momento giusto per fare a fuoco Preso! Dopo un po' gli attaccanti hanno iniziato a fare un pochino più di attenzione Una mannina lost Lì indietro basso Prendiamo! Prendiamo! Simo sei pronto? Simo sei pronto? Mi sono arrivato tre messaggi Di fila? Ragazzi? Frasca, non mi ricordo ero ubriaco in un veduino e per di più ero in un costume da tiretto Bene ragazzi, anche questo gameplay è finito ho messo solo le difese perché in attacco non ho fatto veramente un cazzo perché come avete visto era praticamente impossibile quindi non ho fatto nulla di particolare ho messo solo il campo veramente troppo vantaggioso per la difesa e niente, spero che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo gameplay